Sono Gloria Bava Piloni, oggi sono in Skillab per una lezione sulla gestione dei rifiuti. L'argomento interessa tutte le aziende in quanto produttori o trasformatori di rifiuti, le persone che ho in corso sono interessate al trattamento di questi rifiuti e si svolge all'intervento tutta la giornata tocchiamo sia la parte normativa che la parte gestionale dei rifiuti stessi.